buonasera signorina siamo uscite da scuola ti dobbiamo dire una cosa io anastasia dove andiamo stasera anni non mangiare dai cinesi sei contenta però devi studiare prima ok quindi adesso studi subito e poi andiamo a cena va bene brava amore stai studiando bravissima andiamo dai che arrivato papi andiamo a mangiare o fame sei contenta vai avete fame cucciole io tantissimo e tra poco mangiamo anastasia cosa mangi tu stasera ok e la vanessina scegliere dal menù ci vediamo dopo a tra pochissimo ciao daddy dai amore siamo quasi arrivati anzi siamo arrivati dobbiamo solo entrare si yes fammi un balletto di felicità attenzione grazie ok papi prego noi scegliamo insieme vuoi un menù anni ma certo tieni ok se il piatto così lo facciamo a mangiare mangio allora i panini fritti si quelli al vapore e le patatine devi dire i numeri al papà allora il 21 il 22 e il 23 una porzione mi ha dato un cuscino ti ha dato un cuscino così sei più sollevata hai visto com'è gentile mette la soia in tutte le tazzette le tazzette amore vai metti la soia brava ok si in questa tazzetta ok grazie questa è la mia no perché potresti anche assaggiarla magari ti piace questa è quella di vanessa vanessa va bene e questa è quella di papà ok ok grazie molto gentile ok ecco va a te tira larga vai vai senza paura vai vai amore bravo hai visto domani andiamo all'asilo eh promesso vai amore è arrivato il tuo te ti aiuto amore bello fresco bevine un pochino solo il resto lo tieni per dopo cena ok durante la cena signorina ci siamo eh abbiamo fame o no hai fame mi ho tanto anche sei stanca vanè hai un po' sonno vero quando torniamo a casa però andiamo subito a dormire eh e sono arrivate le prime pietanze per papi e ciao dai fammene assaggiare uno va vai dai dai mettiamola qua io io vuoi assaggiare Ani? no io ho messo io solo un pochino di te dove? qui hai fatto bene tagliata di tonno con semi di sesamo buono vediamo Ani vai tre due un araccia letto con il portabacchette cinesi sa benissimo con la tua maglietta nera stasera eh è nero è nero Ani Ani le patatine piano bimbe piano sono calde non sono calde? hai preso una patatina amore? no vuoi il ketchup? chiediglielo quando passa eh scusa possiamo avere del ketchup? ketchup? si ho messo una soia perché tua sorella ti ha fatto uno scherzo ti ha messo la soia al posto del ketchup è qua il ketchup amore la mangio io dai ma non si sente neanche ma chi ma grazie no è ancora una soia? ma come ancora la soia? guarda Anastasia puoi tranquillamente metterlo nel ketchup perché non si sente neanche la soia guardate quanta pappa buona è arrivata questa qui è una barca di sushi misto buonissima Ani sono arrivati gli shao mao te ne do uno? opla ne ho presi due mi aiuti? mi tiri giù questo? con le mani? con la forchetta? togliamo pisellino? ecco brava già fatto ma perché non ti piace pisellino? è buono ah ecco la bocca da mamma mia che bocca grande sembra il lupo di cappuccetto rosso mi piace no? brava bravissima li mangi così o te li devo tagliare? così va bene così? il piatto preferito di Ani non sono caldi? no anzi sì ah i panini i tuoi panini preferiti vero? o preferisci quelli bianchi al vapore? tutti e due tutti e due vai vai aspetta li hai raffreddati un po'? niente no non ce la fa va bene? cos'è arrivato? il panino quale? quello bianchi quello al vapore però stai mangiando ancora quello fritto fai sentire come è morbido il panino al vapore sembra uno squishy schiaccialo guardate rimangono anche i segni delle ditate è come uno squishy vero? però è buono? così buono è così come uno squishy è vero ma non è ancora arrivato niente di quello che ho ordinato te? no stai mangiando il panino di Anastasia? non si io lo voglio mamma finalmente è arrivato qualcosa per me ravioline e le verdure sono buonissimi mamma ehi guarda dai brava impara a mangiare con le bacchette io non sono capace vediamo se vinco brava bravissima hai ancora un po' da studiare cosa mangi? i spaghetti alla soia i spaghetti di soia piano piano amore mastica bene amore cosa c'è? sono arrivati i tuoi spaghettini sei stanca Manessa? e il mio sushi è arrivato con il gambero in tempura anche questo molto buono vuoi assaggiare il mio sushi Ani? vuoi assaggiare il mio sushi? no? non ti va? è buono eh? sembra che c'è è la coda del gambero no? ok pausa cena? sì Ani sei sazia? ti sei saziata? i panini che sono avanzati lo posso mangiare io? eh? sì sì ma adesso ha mangiato pochissimo e ora stanno facendo una pausa allora Anastasia prendi questa pallina mettila sul tavolo che dà doppia sensazione incrocia le dita così passa le dita incrociate sopra la pallina brava quante palline senti? allora fate questa giacca a casa prendete il pane con la molica quella cosa che c'è dentro il pane morbida fate una pallina bruciate le dita mettete tutte le due dita sopra la pallina e sembra che e spostate le dita sulla pallina sembra che ce ne sono due perché voi intanto quando siete così la tenete sopra la pallina quindi sembra che ce ne sono una di là e una di qua si percepiscono due palline vero? invece è una mamma provo anche te ne senti due? sì non è che è forte? è una sensazione strana vero? sì allora bimbe la cena è quasi finita per caso sì volete il dolce? sì sì certo che voglio il dolce quale dolce vuoi? lo so il tartino con il cioccolato fondente dentro eh quello è buono eh tanta roba anche io voglio il tartino quello con il cuore di cioccolato caldo dentro? sì ci stai già più vuoi la rosa? sì così profuma così profuma? non so non so se profuma poi la annusiamo se la prendiamo una rosellina sì la mettiamo in la mettiamo in salotto il salotto il salotto va bene il salotto hai mangiato bene? sì sì adesso andiamo a casa e facciamo la nanna dai bacini mamma se ne è andato quello delle rose vediamo se ne arriva un altro no amore è uscito ma è uscito e vai a vedere è andato via non ha sentito papà che l'ha chiamato e se ne è andato fa niente ci sei già tu che sei la mia rosa amore è arrivato il tartino ya possiamo assaggiare c'è qualche golosone qua in attesa di un assaggino vediamo un po' apriamo subito questo tortino in due è intelligente è caldo? dai va bene ti lascio stare io bevo il mio caffè bene ma hai notato che questo questa scritta sembra V.A. Vanessa e Anastasia guarda vero? non sembra una V con una A Vanessa e Anastasia? ben finita amore yeah un po' d'aria fresca prima di andare dove? a dove? Mire dove è Anastasia? è andata è già andata Anastasiuccia adesso andiamo a casa e mangiamo il biscottino della fortuna tattarattattero spider girl spider girl tattarattattarata spider girl spider girl è tutto il giorno che hai il singhiozzo Vanessa vero? sì come mai? ti abbiamo beccata signorina dove sta entrando? vuole entrare negli appartamenti? yes ecco papi che ci viene a prendere forse papi ha un brutto vizio quello di non ricordarsi mai di aprire la macchina signorina dove sei andata? ragazzi siamo tornati a casa adesso andiamo a dormire perché domani non la manderà anche a cuola se il video vi è piaciuto ascrivetevi al tuo canale e attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ciao 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 ciao